Questo video riguarda i migliori 3 aspiracenere. Il vincitore della qualità è il Rebimex Cenetop 1200. Aspiracenere elettrico Cenetop munito di un pulsante di scuotimento pneumatico che permette la pulizia del filtro assicurando l'aspirazione continua. È ideale per l'aspirazione della cenere fredda di stufe, caminetti e BBQ. È dotato di un filtro EPA di serie e un prefiltro auto-estinguente di protezione del filtro. Filtro EPA lavabile con protezione metallica. Trattiene il 99,97% delle polveri, particelle e allergeni di O3 Microns. Prefiltro auto-estinguente per aspiracene antistatico per evitare di ostruire il filtro EPA e di avere una maggiore facilità nella pulizia di esso. Tubo flessibile metallico rivestito. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il CECOTEC ASH. Konga Power Ash 1200. Tecnologia Ultra Power. Massima potenza di aspirazione grazie ai suoi 1200 Watt. Aspirazione estrema ideale per aspirare sporco estremo come ceneri, stufe a pellet, barbecue, sporcizia, vetri rotti, detriti di costruzione, zoccoli fognari, foglie, segatura e tutto lo sporco di un'auto. Con un diametro di 31 mm di ingresso, risucchia fino ai detriti più grandi. Ottieni un filtraggio perfetto in tre fasi, costituito da un filtro standard in tessuto, un filtro per le particelle più piccole e un filtro a rete metallica. Purifica l'aria. Grazie al filtro EPA è in grado di rimuovere il 99,98% di sporco. Respira aria completamente pulita. Tubo a vuoto rinforzato con rivestimento metallico in grado di aspirare tutti i tipi di sporco senza rompersi ed è resistente al calore. Leggero e maneggevole. Include una maniglia per un facile trasporto. Fino a 7 metri di raggio d'azione. Silence Tech. Aspirapolvere confortevole con meno di 75 decibel. Il vincitore del premio è l'Uraq Aspirabriciole. Questo aspirapolvere portatile a batteria consente il libero movimento da una stanza all'altra, evitando il fastidio di un cavo. Il vuoto della maniglia con potente motore da 120 W e forte turbina metallica non lascia nulla alle spalle. La batteria al litio premium, che può essere ricaricata rapidamente in 3 a 5 ore, e mantiene un tempo di pulizia super lungo di circa 20-30 minuti. Produce meno di 78 decibel di suono, mantenendo la sua potente capacità di aspirazione di 4,5 kilopascal basata sui principi di smorzamento meccanico, che ti offre un'esperienza di pulizia confortevole e non disturbare i tuoi bambini e spaventare i tuoi animali domestici. Il tubo elastico e il set di ugelli potrebbero raggiungere ogni punto desiderato con il cavo di alimentazione lungo 16 piedi. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.